Tutti e buona vista allo vostro ringrazio della Pena, a Buenai, il Tinder, l'Antiaco, il Compostè e il Spagnolo. Tutti e grazie a Libia, io vado a vedere tutti voi. Lui è il terzo sport più bello del mondo. E oggi vedremo anche io, dandoci con l'osidio del telefono di mia madre, le formazioni grazionali. Importa, provvedendo, di pesa con Lazari, Mario, Tiet, Pagnoli, Romagnoli, Malusic, a centro campo, Guendo Siga, Tanti, Luisa Alberto e Montacco, Saccagni, Immobile, Felipe, Adversogio, Immobile, Immobile. E' un'altra disponibile, Vardy Kerovich, per il Milan, Mönjöv, in porta. In difesa, Carabin, Gauti, Gauti, Ateo Hernandez, che è il centro campo, Benassert, Adli, in strada del quarti, Pulsi, Cirovich, Liao, in attacco comunica, punta Giru, quindi al 4-4-3, risponde 4-2-3-1. Con il Vardy Kerovich disponibile, Vardy Kerovich, per il Milan. Una partita da dentro o fuori, in chiave Champions, infatti, chi vince si avvicina alle zone alte della classifica. Il Milan deve rimanere terzo saldo, al terzo posto saldo, mentre la Lazio per salire sopra il settimo posto, insomma, avanzare per le competizioni europee valide per la prossima stagione. Chi vince la scoprima, solo stagione. A presto, ragazzi. Buona la prima con la Lima. Vinceremo la prossima schedita. Non fai niente se abbiamo perso la schedita. Vinceremo la prossima, vedete. Buon aria.